Non mi sento di commentarla perché quello è un ruolo di cui il sovrintendente è veramente regno sovrano, quindi la facciamo arrivare a Ortombina, Ortombina l'ho sentito in questi giorni e adesso anche lui è molto impegnato, quindi arriverà a Milano a metà mese, quello che io chiedo per gli organi societari, anche perché c'è un problema anche contrattuale e dopo porteremo in CDA la sua nomina disegnata, che va fatta il prima possibile, però voglio che venga a Milano perché comunque deve difermare un contratto, detto ciò la situazione è totalmente tranquilla.